Allora, direi che possiamo iniziare con qualche avviso intanto Ok, qui, registra, per cui Allora, avviso numero uno, vi chiedo cortesemente se non l'avete ancora fatto Siamo verso la fine del corso, avete tempo fino alla fine dell'erogazione degli insegnamenti Quindi mi sembra il 9 giugno, sì, forse anche il 10 giugno Per cortesia compilate il questionario CPD di fine insegnamento Che è quello normale, quello che avete su tutti i corsi Quindi, domandina, lo so che è un po' noioso, ma serve per tutti i processi di qualità dell'Ateneo Mille motivi Se volete esprimere la vostra soddisfazione o insoddisfazione Riguarda qualche aspetto del corso, potete farlo Per chi lo compila c'è poi la possibilità Non l'obbligo, ma la possibilità Di partecipare alla compilazione di un questionario Che si chiama questionario CPD post-esame Che è stato erogato in forma sperimentale Oramai da un paio d'anni, se non tre Su alcuni corsi, diciamo, numero limitato di corsi Che partecipano a questa sperimentazione al Politec Questo è uno di quelli Anche perché so io nel CPD E fondamentalmente l'abbiamo messo un po' su Diciamo nel CPD da quando sono io dentro E avrete la possibilità di compilare un questionario Molto molto breve Quindi sono nove domande solo a risposta chiusa Quindi non c'è da scrivere, non c'è nulla Di particolare, sono pochi clic Che vi verrà proposto Quando supererete l'esame di questo corso Nelle due settimane successive Alla registrazione del voto Quindi io chiudo il verbale Cosa che di solito faccio pochi giorni dopo Che abbiamo finito tutti gli orali Vi arriverà una notifica, due notifiche Tre notifiche, un email, insomma qualcosa Che vi dirà che avete questa possibilità Mi raccomando cercate di sfruttarla Perché questo questionario è stato introdotto Non per volontà dei docenti Ma per volontà dei vostri rappresentanti Degli studenti Soprattutto in senato accademico Che ci tenevano a avere questo meccanismo Di monitoraggio Se però poi si vede che nessuno lo compila Al momento siamo alla metà Più o meno degli aventi diritto Che lo compilano Chiaramente questa cosa Verrà prima o poi eliminata O comunque ridimensionata E' probabilmente uno strumento utile Che è bene utilizzare Lo fate dopo che avete seguito il corso E superato l'esame Quindi non è che se siete insufficienti Per qualche motivo Capita raramente in questo corso Però dovete compilarlo Quindi avete già chiuso con questo corso Per cui potete esprimere il vostro giudizio Liberamente e tranquillamente Però lo potrà fare solo Chi ha compilato il CPD Di fine insegnamento E quindi che finisce Che deve essere compilato Entro il 9-10 giugno Come quello di tutti gli altri corsi Per cui compilate il CPD Di fine insegnamento Quello classico E poi avrete la possibilità Di compilare anche questo Ok Secondo avviso Questa è la pagina del corso Oggi Siamo qui Martedì 30 maggio E l'ultima lezione In quest'aula Del corso Ok Quindi Oggi facciamo l'autenticazione Che è l'ultimo argomento Importante Questo corso La prossima settimana Quindi martedì 6 giugno Salvo imprevisti Cataclismi E così via Cosa che ovviamente Non ci auguriamo Non ci sarà lezione Qui in aula Mi vedrete ancora Oltre che giovedì Per due slot Sempre salvo imprevisti In laboratorio Mi vedrete il giovedì Successivo L'8 giugno In cui useremo Il laboratorio Per tre ore consecutive Tutti insieme Per svolgere Diciamo Non svolgere Ma impostare Almeno Un tema d'esame Ad esempio Di cui poi Vi fornirò Una soluzione Diciamo così Completa Diciamo In maniera Che possiate Avere qualcosa Un po' più completo Da cui trovare Ispirazione E di una complessità Un po' più Elevata Rispetto a quello Che facciamo in aula Perché in aula Abbiamo portato avanti Un esempietto Ma diciamo Un po' Limitato Al punto di vista Delle funzionalità Delle cose Che sono integrate Ci sono tutte Però Diciamo Un tema d'esame Richiede un po' più Di lavoro Quindi Noi lo imposteremo Non avremo il tempo Ovviamente di svolgere Perché non si può svolgere Chiaramente in tre ore Però cerchiamo di ragionare Sulle scelte Implementative Degli aspetti principali A cominciare Da come Impostare L'API Verso il server Quindi cosa Cosa dovrà far vedere L'applicazione Come impostare Quest'API E da lì Strutturare L'applicazione Ok Quindi Questo è Quello che ci aspetta Quindi oggi Il laboratorio giovedì Non c'è lezione martedì prossimo Il laboratorio giovedì dopo Che non è più un laboratorio Ma è una Chiamiamola esercitazione Insieme Qui ho scritto lezione Ma in realtà sarebbe meglio Esercitazione Io metterò online Uno dei temi d'esame Di quelli che abbiamo già dato Negli anni precedenti E ci metteremo A ragionare Su come sarebbe possibile Risolvere uno Questo tema d'esame Per l'8 giugno Dovrà già essere Stato pubblicato Stiamo finalizzando Un po' in questi giorni Il tema d'esame Per il primo appello Ok Quindi Ci sarà anche Quel tema d'esame Non possiamo metterci A discutere su quello Perché sarebbe un po' Ingiusto Per quelli che poi Faranno Decidono di fare l'esame Secondo, terzo, quarto appello Ok Però chiaramente I dubbi di interpretazione E così via Potranno essere Come dire Posti Non so se proprio Durante La lezione L'8 giugno Ma comunque Sul canale telegram Che useremo Fondamentalmente Una volta che è finito Il corso Per risolvere Dubbi di interpretazione Non su come Risolvere l'esercizio Il tema d'esame Ovviamente Ma su come Interpretare Certe affermazioni Che magari Vi possano apparire Poco chiare No Qui devo fare anche questo E richiesto No La risposta di semplice Di solito è Tutto ciò che non è scritto Non è richiesto Tranne le buone pratiche Che sono state insegnate A lezione Chiaro che non c'è scritto Che adesso vedremo La password Non va tenuta in chiaro Nel database Va bene Però noi a lezione Abbiamo visto un certo modo Di fare cose Quindi questa cosa Ce l'aspettiamo E così via Come tante altre Ok Allora Direi che possiamo proseguire E oggi parliamo appunto Di autenticazione Quindi Come funziona Nelle nostre applicazioni web Allora Prima di tutto Una distinzione Si parla di autenticazione E autorizzazione Che sono due cose Un po' diverse Nelle applicazioni piccole Spesso finiscono Per coincidere Perché una volta Che sono autenticato Sono autorizzato A fare tutto Ok Ma nell'applicazione Più grande Ci potrebbe essere Una distinzione Perché sulla base Di chi Sono Di chi siamo Quando ci autentichiamo Cioè diciamo Io sono Enrico E posso Ho questa password E eccetera Quindi mi riconosci Come Enrico Sei Tu puoi fare queste cose Ma non altre cose Quindi sei autorizzato Hai permesso Di fare certe cose Piuttosto che altre Ok Il processo di autenticazione Tipicamente fatto Con delle credenziali Le più classiche Dall'inizio Delle applicazioni web Sono Utente Password E questi Mi consentono Di farmi riconoscere Dall'applicazione web Ok E dicevamo Nelle applicazioni semplici Molto spesso L'autorizzazione È Diciamo Per tutto Quello che può fare Un utente autenticato Quindi Può fare tutto Sostanzialmente Ok In applicazioni In applicazioni Magari un pochettino Più complicate Potrebbero esserci Ruoli diversi Un ruolo di amministratore Piuttosto che Di utente normale Autenticato E così via Un po' come Che so Prendete Il sito del Politecnico Voi entrate Sul portale della didattica Entrate come studente Potete fare certe cose Io entro come docente Posso fare delle altre cose Non necessariamente In più Perché non ho le stesse Vostre viste Però io posso caricare Il materiale didattico Sulla pagina del corso Voi lo potete solo scaricare Cioè ancora Chi è nell'amministrazione Può Rivoluzionare le pagine Cosa che io non posso fare E così via Queste sono autorizzazioni Ok Però chiaramente Stiamo parlando Di una situazione Un po' più complessa Risolvere questo problema Non è banale È complicato Ci serve parecchio tempo Noi vi daremo Una soluzione Un po' pre-confezionata Sulla base Delle buone pratiche Diciamo Che si usano In questo settore Cercate di non inventare Nulla Da zero Perché si finisce Per sbagliare È un campo molto complicato Un campo da esperti E ogni tanto C'è anche da interagire Con sistemi esterni Per esempio Tutte le volte Che arrivate Su un'applicazione web E vi dice Vuoi autenticarti Con Facebook Google GitHub Non so Tutti questi Meccanismi esterni Vuol dire che voi dovete Interagire con un sistema esterno Arriva sul Politecnico Vuoi usare lo speed Per entrare? Sì Però c'è da interagire Con un sistema esterno Noi non interagiremo Con sistemi esterni Ve lo anticipo già Per semplicità Abbiamo meno di tre ore E dobbiamo risolvere Tutto il nostro problema La questione Dell'autenticazione Autorizzazione Coinvolge sia il client Sia il server Perché il client Dopo che abbiamo fatto Il processo di autenticazione Deve ricordarsi Di continuare a dire Chi siamo E vedremo in che forma E il server Deve riconoscerci Per quelli che siamo Andare a recuperare Cosa possiamo fare E consentirci o no Di fare queste cose Quindi Cerchiamo di Basarci Su tutte le buone pratiche Che vedremo Oggi O in generale Se dovete Uscire da questo ambito Perché Non lo so Volete fare Login con terze parti E così via Studiate bene Quali sono le buone pratiche Usate quelle Non discostatevi da quelle Perché È un campo Veramente difficile In cui è molto facile Sbagliare Beh Questo diciamo È un po' Un riassunto Di tutti i meccanismi Di autorizzazione Però Ve lo lascerei Come lettura Noi andiamo a vedere Come risolve Il nostro problema Nella pratica E come sempre Poi nella seconda parte Della mattina Andiamo ad applicarlo Nella nostra applicazione Di esempio Allora Prima di tutto Saprete già Che Noi usiamo Il protocollo HTTP Questo protocollo È stateless Cioè Senza stato Cioè Ogni richiesta Di resource Va per conto suo Che io faccio una get Faccio una post Put Delete Ogni richiesta A se stante Il server Mi dà una risposta Sulla base Di quello che io ho messo Nella richiesta Quindi Il metodo L'url E Il body E i vari header Che metto Nella richiesta Per esempio Noi abbiamo già messo Un header Che è Content type Application JSON Per dire Il formato Dei dati Che mandiamo Nel body Posso mettere Tanti altri header Vedrete che ne metteremo Uno in particolare Che ci servirà A farci riconoscere Come utenti Autenticati Ecco Allora Come facciamo Nel momento In cui Abbiamo bisogno Di farci riconoscere Come utenti Autenticati A dire Questa cosa Al server Cioè A dire Al server Che abbiamo Già fatto Delle operazioni In precedenza E quindi Deve riconoscerci Come utenti Autenticati Non è che Possiamo Ad ogni richiesta Includere User name Password Che il server Deve ogni volta Verificare Lo sapete Come funziona Il meccanismo C'è questo meccanismo Delle sessioni Che usiamo Tutti Tutti i momenti Quando Stiamo usando Un'applicazione Web Normalmente Che ci chiede User name Password Che non sia Una semplice pagina Di visualizzazione Come accedo Alle provisioni Al tempo Ho visto Il risultato Senza autenticazione Finito Però nel momento In cui ho bisogno Dei miei dati Della esperienza Personalizzata Per me Utente Devo mettere User name Password Dopodiché L'applicazione Non me le richiede più E quindi Come fa A tenere insieme Queste richieste Successive Che io farò Per consultare La mia email Per consultare Il carrello Della spesa Piuttosto che Le prenotazioni Che sto facendo E così via È necessario Che ci sia Una cosiddetta Sessione Cioè Un legame Tra una richiesta E la successiva La successiva Per far capire Al server Che tutte provengono Dallo stesso utente Autenticato Ok Quindi è necessario Che teniamo Delle informazioni Tra le differenti Interazioni Col server Tra le varie richieste Ok Quindi Una sessione Di fatto È Diciamo Sono dei dati Che sono Scambiati Tra Diciamo Due dispositivi Di solito Il client Dove gira Il nostro browser Il server Delle API Per quale facciamo Accesso Per avere Informazioni O immagazzinare Informazioni E E ci serve A tenere traccia Anche dello stato Nella quale Si trova L'applicazione Ok A un certo punto Viene creata Questa sessione Tipicamente Dopo che ho messo Username Password Il server Crea questa sessione E viene mantenuta Fino a quando Non chiudo tutto E quindi Perdo Le informazioni Relative a quella sessione Ne dovrò creare di nuove Se voglio un'altra sessione Perché il browser Le mantiene Ma le mantiene Nella memoria Temporanea Quindi se chiudo il browser Perdo la sessione O Fino a quando Non dico Esplicitamente Di chiudere la sessione Quindi col bottone Tipico dell'applicazione Logout Esci E così via Ok Quindi questa è la sessione Questa sessione È in genere Anzi Diciamo Tutte le sessioni Sono identificate Da un identificativo Di sessione Questo session ID Che è il più semplice Meccanismo Che possiamo pensare Per mantenere Una sessione Attiva Quando creiamo La sessione Quindi dopo che avremo Fatto l'autenticazione Il client Riceverà Un identificativo Di sessione Generato Dal server Creato Dal server In qualche maniera Dettaglio a noi In questo momento Non interessa Anche se vedremo qualcosa Ma non ci interessa tanto C'è questo Identificativo Di sessione Unico Per noi Per la nostra sessione Che non può essere Indovinato da altri Perché se fosse Indovinabile Quindi Fosse Conosciuto da altri Altri potrebbero Impersonare noi Nella nostra sessione E questa informazione Consentirà Il server Ogni volta Che riceverà Delle richieste Che contengono Anche questo Identificativo Di sessione Di riconoscerci Come quegli utenti Autenticati Con quel Username Passo Quindi come Quella Certo Utente Che può Fare Tutta una serie Di cose O non fare Una serie Di cose Questa informazione Da qualche parte Va tenuta Va tenuta Sul client Perché il client Che ogni volta Deve inviare Questo identificativo Di sessione Al server In ogni richiesta Che vuole Che sia riconosciuta Come appartenente Alla sessione Quindi deve essere Immagazzinata Sul lato client Quindi nel browser Da qualche parte Deve essere Inviato Dal client Ogni volta Che facciamo Una richiesta Che parte Della sessione E non deve essere Sensibile Cioè Non deve essere Un'informazione Che io apro Leggo E ci sono scritte Delle informazioni Sensibili Facilmente Come dire Leggibili E non può essere Un'informazione Del tipo Utente Uguale Enrico E pastor Uguale Pippo Ok Perché Perché questa informazione Sul client Chiunque la può Andare a vedere Incluso l'utente Che si è autenticato Ma l'utente Che si è autenticato E il meno Diciamo Il rischio È che Del codice Malevolo Vada a leggerlo O comunque Altri Che non Devono essere A conoscenza Di questa informazione Possano andare A leggere Questa informazione E soprattutto Se Non è Cioè Se È interpretabile Facilmente Oltre che Leggere Questo Identificativo Di sessione E quindi Permetterci Di fare Richieste In quella Sessione Se fosse Facilmente Interpretabile Come ci fosse Scritto Dentro Username Password Sarebbero Addirittura In grado Di creare Altre Sessioni A nostra Insaputa Ok Dove mettiamo Questa informazione Bene La soluzione Più semplice Che è anche La più utilizzata Che veniva utilizzata Anche prima Delle nostre Single page Application Per le applicazioni Diciamo così Più tradizionali È quella Di metterla Di metterle Nei cosiddetti Cookie O meglio Di mettere Questo identificativo Di sessione Che sarà poi Uno solo In un cookie Cos'è il cookie Cookie in inglese Vuol dire biscotto Questa per Piccolo pezzettino Di informazione Che può essere Immagazzinato Nel client Nel browser In una specifica Memoria Apposta Tutti i browser Hanno la possibilità Di Memorizzare Questa piccola Informazione Che si chiama Cookie Ok Quindi Il cookie È un pezzettino Di informazione Che sta Nello storage Dei cookie Del browser Che viene gestita In maniera Del tutto Automatica Dei browser Fin dalle versioni Più vecchie Insomma Sono 20 Più anni O anche di più Che i browser Sono in grado Di gestire i cookie E i cookie Hanno questa Politica di gestione Da parte Di tutti i browser Ossia Vengono spediti Automaticamente Dal browser Al server Quando si fanno Delle richieste Allo stesso Dominio Percorso Ci sono poi Una serie Di opzioni Per fare in modo Che possano essere Spediti In altri casi E così via Quindi Che so Io vado Su www.polito.it www.polito.it Slash Quindi Path principale Percorso principale Mi imposta Un cookie Quindi mi da Un cookie Il browser Se lo ricorda E tutte le volte Che farà Delle richieste A www.polito.it Barra O barra qualcosa Che sono Sotto parte Dello stesso sito E automaticamente Invierà il cookie Andate su Didattica Pulito.it Che forse è più interessante Vi autenticate Il server Vi da un cookie E voi Cioè il browser Automaticamente Tutte le volte Che farete Delle richieste Didattica Pulito.it Invierà Automaticamente Nel header Della richiesta HTTP Il cookie Ok Quindi il server Tutte le volte Che riceverà Le richieste HTTP Vedrà questo cookie E sarà in grado Di associare La vostra richiesta Alla sessione Che avete attivato Con username e password Ok Mi raccomando Come dicevamo prima Informazione sensibile Non deve essere mai Immagazzinata Nel cookie È chiaro che il cookie Di per sé È un'informazione sensibile Nel senso che Qualsiasi valore Abbia Un identificativo Di sessione Che se Se voi Ne venite a conoscenza Se la sessione è attiva Potete usarla Per impersonare Qualcuno Che sta facendo richieste Su quella sessione Questo è un problema Di per sé Ma non deve contenere Come dicevo prima Informazione Diciamo così Facilmente Interpretabile Come fosse una username Una password E così via Perché quello Sarebbe ancora peggio E vi consentirebbe Di creare anche Altre sessioni A piacimento Di chi ne viene A conoscenza Ok Alcuni attributi Quindi Valori Di proprietà Dei cookie Che vengono Tipicamente Impostati Dal server I cookie Su questo pezzettino Di informazione Sono stati Standardizzati E Hanno una serie Di proprietà Che è bene Conoscere Come sempre Noi vediamo Solo quelle Che ci interessano Di più Ma qui sono Abbastanza esaustive Diciamo Per l'uso Che se ne fa I cookie Hanno un nome I cookie Hanno un valore E poi Altri attributi Cominciamo dal nome E il valore Allora Il cookie Ha un nome Perché io Devo poter distinguere Tra diversi cookie No Quindi Lo stesso sito Potrebbe impostarmi Più cookie Differenti Ok Perché Per qualche motivo Potrebbe avere Voler Creare anche Più sessioni Va bene Ma ipotizziamo Che ci siano Solo sessioni Ma i cookie Non servono Solo per le sessioni Servono anche A memorizzare Piccoli pezzi Di informazione Sul client Quindi E' bene Poter fare in modo Che ci possano essere Più cookie Per il singolo sito Il singolo percorso Per cui hanno un nome Hanno ovviamente Un valore Che è questo valore Diciamo così Che viene impostato Per esempio Per l'identificativo Di sessione Dal server Che non deve essere Facilmente interpretabile Ok E poi hanno una serie Di altri attributi Per esempio Secure Che è booleano Se è impostato Quando viene creato Il cookie Quindi quando il server Dice di creare Un cookie E' solo un server Che può dire A un browser Di creare un cookie Inviandoglielo E dicendo Quali sono gli attributi Associati a questo cookie Se è impostato L'attributo secure Questo cookie Verrà inviato Solo su sessioni Cioè scusate Solo su richiesta HTTP Sicure Cioè cifrate Sulle HTTPS Che non sono poi Nient'altro Che richiesta HTTP Che transitano Su un protocollo Sicuro L'ultimo Il TLS Che sostanzialmente Prevede Cifratura Della comunicazione Per cui Chi guarda Sulla rete I dati Che transitano Non è in grado Di decifrarli Senza la chiave Della comunicazione Che è una cosa Diversa dal cookie La chiave di comunicazione Viene stabilita A un livello Differente A un livello 4 Sotto il TCP Quindi Quando voi siete Su un sito HTTPS E Volete Che Il cookie Non venga mai inviato Dal browser Su una connessione HTTP Quindi non cifrata Dovete impostare Questo attributo Noi Non lo faremo Per nostra comodità Perché gestire HTTPS Richiede certificato Il certificato Poi deve essere firmato Dalla certification authority Se no vi viene fuori Il burning Sul browser E così via In un'applicazione Reale Quasi sempre Dovrete usare Dei cookie Con questo attributo Impostato Ok Solo per nostra Comodità Noi in questa Diciamo Sede Non lo facciamo Ok HTTP only Che è una cosa Diversa Non c'entra L'Http O l'Https E di nuovo Un attributo Booleano Che dice Che se impostato Il cookie Sarà inaccessibile Al codice Javascript Perché il codice Javascript Gira in un browser Tra le tante cose Può anche accedere Ai cookie Ok Ma se noi Impostiamo Questo flag Questo attributo Booleano Diciamo al browser Di non fare Di fare in modo Che il codice Javascript Non possa accedere A questo cookie Che è la cosa Migliore Perché noi Non sappiamo mai Che il codice Javascript Può girare sul browser Oltre al nostro Il nostro Ovviamente Lo conosciamo E va bene Però se abbiamo Tirato dentro Una libreria Di qualcun altro Pensate alle librerie Bootstrap Che ha un po' Di javascript Qualcun altro Usa il jQuery Non in questo corso Ma insomma È pieno di altre librerie O anche le librerie Che importiamo Dai vari pacchetti Dai JS Piuttosto che Cos'è che usavamo Sul client Ancora Poi c'era Qualcos'altro Adesso non mi viene in mente Ma comunque Vabbè React Per carità E tutto il codice Scritto da altri Se noi Diciamo che il cookie È inaccessibile Al codice javascript Abbiamo risolto Alla radice Il problema Di chiunque Possa Da codice In qualche maniera Che ci è sfuggito Andare a recuperare Il cookie E usarlo A nostra insaputa Per fare azioni Come utente Autenticato In una certa sessione Ok Ultimo Noi questo Lo imposteremo Lo imposteremo sempre Anzi Sarà impostato di default Dalle librerie Che usiamo Expiration date Quindi I cookie Scadono Cioè hanno una validità A un certo tempo Finisce La loro validità Che può essere Un secondo Un giorno Un mese Un anno Vent'anni Può essere qualsiasi cosa Però a un certo punto Scadono Dopo che scadono Non sono più validi Quindi il browser Li cancellerà Perché li ritiene Non validi E non li invierà più E anche il server Ovviamente Vedrà la scadenza Se per caso Venissero inviati O l'avrà impostato Il server E quindi Li considererà Non validi Ok Ecco ancora una cosa Magari se non è Esplicitamente scritta qui Però Diciamo Ci sono i cookie Permanenti E i cookie Temporanei Noi useremo Dei cookie Temporanei Nel senso Che risiedono Esclusivamente Nella memoria Del browser Nella ram Quindi quando chiudiamo Il programma del browser Lo riapriamo Il cookie è sparito Ci sono dei cookie Permanenti Che invece Vengono memorizzati In una forma Più permanente Nel browser Cioè chiudiamo il browser Lo riapriamo Quei cookie resta Se ancora valido Ovviamente No Tutti i cookie Dei Diciamo Dei siti più moderni Che usate tanto Google E così via Sono di questo tipo Secondo tipo Permanente No Quindi voi chiudete il browser Vi dice Vuoi restare loggato Quando vi autenticate Sì Ok Chiudete il browser Lo riaprite Se non avete fatto passare Proprio un anno Insomma Ci sarà Se siete ancora Nel tempo di validità Del cookie Non avete più bisogno Di riautenticarvi Perché il cookie È ancora valido E quindi È una sessione Ancora valida Ok Però deve essere immagazzinato In forma permanente Quindi Ci sarà uno spazio Su disco Dedicato Dal browser Ai cookie Che Verrà Utilizzato dal browser Per andare a recuperarli E spedirli Al server Se questi sono ancora validi Anche se avete Prima chiuso E riaperto il browser I nostri cookie Sono temporanei Quindi Non ci prendiamo la briga Di farle scrivere Sul 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 disco Dal browser Ok Di nuovo Semplicemente Per comodità Non ci sarebbe nulla di male Nel farlo Ma Diciamo Sarà un altro attributo Semplicemente Ok Quindi Come funziona Il meccanismo Di In linea Di principio Di creazione Di una sessione Io Ho la mia applicazione web Carico il contenuto iniziale A un certo punto Mi viene proposto Inserire Username Password Che dicevamo Sono il meccanismo Più semplice Per realizzare Autenticazione Invio Queste informazioni Al server Quindi tramite il browser Farò una richiesta HTTP Di tipo Post Su nulla post Di solito Barra login Barra api login Noi avremo Barra api session E Invierò Nel body Dell'informazione Tipicamente Due valori Username Password Il server Verificherà Che questi Siano validi E se sono validi Ci creerà Un identificativo Di sessione Questo identificativo Di sessione Verrà ritornato Come risposta Dal Nella risposta Della richiesta HTTP Post Ok Quindi Avrò E lo farò Per farlo Fare in modo Che il browser Lo spedisca Tutte le volte Lo farò Impostando Nella risposta HTTP Un cookie Ciò si fa Non spedendo Nel body Della risposta Il valore Ma Spedendolo Negli header Di risposta Del protocollo HTTP Questo però Doveste già saperlo Se avete visto Un po' di HTTP Abbiamo parlato Degli header E ci sono Degli header Di richiesta E di risposta Le abbiamo ripassati Brevemente Anche noi Ok C'è solo L'identificativo Di sessione Che ci interessa Arrivi al browser Sul lato del server Invece Possiamo mantenere Tutta una serie Di informazioni Collegate All'identificativo Di sessione Anzi Direi Dobbiamo Assolutamente Mantenerne alcune In particolare Qual è l'utente Che ha fatto L'autenticazione Perché senza Questa informazione Poi non siamo Più in grado Di dare I dati Personalizzati Per l'utente Che ha fatto L'autenticazione Quindi Associato al session ID Che verrà inviato Al client Sul server E solo sul server E resterà Solo sul server Ci saranno Ci saranno Tutta una serie Di informazioni Use name E altre informazioni Dell'utente Nome ID Nel database Altri dati Temporani Che mi viene comodo Tenere nella sessione E così via Che il server Mantiene Mantiene in caldo In questo Storage Di sessione Per cui Tutte le volte Che arriva Un identificativo Di sessione Come nelle richieste Successive Che possono essere Di qualsiasi tipo Get Post Put Delete Quello che volete Quando arriva La richiesta Con l'identificativo Di sessione Quindi con il cookie Il server È immediatamente In grado Di capire A quale utente Fa riferimento La richiesta Quali erano Le caratteristiche Di cui aveva bisogno E usarle Per svolgere Le sue operazioni Che so Get Exams Per dire Mi siete autenticati Come voi Nome Password E quando fate Get Exams Non vi vengono Gli esami Di tutti quelli Che hanno sostenuto Esami al Politecnico Non vi vengono fuori Solo i vostri Perché nell'identificativo Di sessione Non c'è il vostro Nome utente Mi raccomando C'è l'identificativo Di sessione E l'identificativo Di sessione Il server In grado Di associarlo Al vostro utente Quindi che so Al Politecnico L'identificativo Potrebbe essere La matricola Che è unica Per ogni studente Se c'è Un identificativo Di sessione Valido Il server Dirà Ok va tutto bene Ti do le informazioni Che mi hai chiesto Relative all'utente Associato Alla sessione E se non c'è Semplicemente dirà Non fornisco informazioni La richiesta Non è autorizzata Ad avere informazioni C'è un codice HTTP apposta Della serie 400 Per dire che Non forniamo informazioni Se invece Va tutto bene Vengono eseguite Tutte le operazioni Se andrà sul DB A caricare i dati A tirare fuori Quello di cui abbiamo bisogno E verrà data Una risposta Come per tutte le API Che abbiamo visto Finora Cosa c'è in più Semplicemente Che il server Fa una verifica Addizionale Se c'è l'identificativo Di sessione Verifica che Siamo autorizzati A Accedere a Quella informazione O farla modifica Quella informazione E così via Ok Quindi mi raccomando Questo è il processo Il meccanismo Di funzionamento Di tutto quanto Bisogna sempre Averlo ben chiaro Quando dopo Andiamo sull'applicazione Reale Vi faccio vedere Nel tab network I cookie Che vanno avanti Indietro Nel momento in cui Facciamo autenticazione E facciamo poi Le varie richieste Ok Ok Qualche nota Ecco Qui dicevamo Usate sempre HTTPS Il cookie secure In produzione Nel senso Su un'applicazione Reale E' obbligatorio Perché Perché se no Chiunque sia in grado Di mettersi In mezzo Alla comunicazione Tra il vostro client E il server Cattura L'identificativo Di sessione E fa le richieste Come se foste voi Che vi siete autenticati Quindi devono essere protette Quest'identificativo Di sessione Non può essere Fatto passare In chiaro Da nessuna parte L'unico meccanismo Che abbiamo Al momento Per fare questa operazione È semplicemente La cifratura Della comunicazione Che però Oggigiorno È abbastanza diffusa Quasi tutti i siti Vi offrono L'opportunità La possibilità Di fare richiesta HTTPS Noi Solo per nostra comodità Anche perché Tanto lavoriamo Su localhost E così via Non abbiamo Questa necessità E non lo faremo Ok Anzi Non lo facciamo Perché l'HTTPS Ci complica Come vi dicevo prima Per la questione Di certificati E così via Che poi Diciamo I browser Se non sono Se non andate A spendere i soldi Per comprare Un certificato vero Per un sito Che poi non può stare Su localhost Ma deve avere Un dominio vero Eccetera Eccetera Diciamo Protesta subito Guarda che non va bene Un sito non sicuro Eccetera 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 E quindi ci crea Solo complicazione Per cui la evitiamo Alla radice Ok Però in uno scenario reale Sempre HTTPS E per non sbagliarsi Mettiamo l'attributo Secure Perché così Il browser Non invierà mai Neanche se noi Avessimo sbagliato Qualcosa Nella programmazione Nel nostro sito Il cookie Su una connessione HTTPS Che non sia cifrata Non sia HTTPS Ok Chiaro che se abbiamo sbagliato Poi non ci arriverà Il cookie Non possiamo fare La riconoscimento Alla sessione Dovremo correggere La nostra applicazione Però in questo modo Stiamo tranquilli Come con la questione HTTP only Evitiamo che il codice JavaScript Possa accedere Al cookie Ma vedrete che per noi Non è un problema Noi non abbiamo bisogno Da codice JavaScript Della nostra applicazione Di accedere al cookie Perché il cookie È gestito dal browser Il cookie Andrà Spedito Al server E ci penserà Il browser A spedirlo Tutte le volte Che è necessario Cioè praticamente Tutte le volte Che c'è un cookie Per quel dominio Porta E percorso Per il nostro API server Quindi non dobbiamo Fare nulla Ci pensa il browser A inviarlo Questa è una buona notizia A un certo punto di vista Nel senso che Nel nostro codice Java Sì sostanzialmente Non dovremmo fare Nulla Quasi Nel senso che Dovremmo aggiungere Una riglina sola A dire Spedisci il cookie Ma non Andarla a prendere Con il javascript E eccetera Perché tanto Non possiamo Mai mettere Informazione sensibile Nel cookie L'abbiamo già detto Tante volte Usate solo Best practice Non inventate nulla In questo ambito Perché qualsiasi cosa Inventate Al 99% Avrà un baco Un baco Di sicurezza Perché Perché è difficile C'è gente Che passa La vita O quasi Ad occuparsi Di questi problemi A fare la verifica Formale I protocolli A fare le verifiche Diciamo Del codice Eccetera In maniera che Tutto sia Assolutamente Sicuro Inattaccabile Ok Perché le applicazioni web Possono essere esposte A tanti tipi di attacchi No? Quindi Per esempio Sapete che ogni tanto Vi arrivano le mail Di phishing Dicendo C'è un'operazione Autorizzata Su tuo conto In banca Vai qui Blocca l'operazione Clic No? Voi cliccate Qual è la speranza Di chi Vi ha inviato Questi mail E che voi Avviate La sessione Con la banca Aperta No? Cliccate lì Quel link Vi porta Alla vostra banca E nel link C'è scritto Che so Post Fai operazione Trasferisci questo Questi soldi A No? Ma questo È solo per fare un esempio No? Può essere qualsiasi cosa Perché la banca Sveglia sempre un po' tutti Perché quando si parla di soldi Si svegliano tutti Però Può essere qualsiasi cosa Cancella l'email Toglimi il voto Aumentami il voto Non lo so Può essere qualsiasi cosa Ok? Sono tutti questi Tipi di attacchi Che oramai Che oramai esistono N.000 versioni Che Diciamo Dobbiamo cercare di evitare Ed è un Campo Di ricerca Sestante Quasi Anzi Quasi È un campo di ricerca Sestante Questo della sicurezza In generale In particolare Delle applicazioni web Ok È un altro modo In cui si possono creare I problemi È caricando Del codice javascript La nostra insaputa Che gira All'interno Delle nostre pagine web Della nostra applicazione Per questo Noi vogliamo Il cucchia Che pionni Per esempio Se noi però Stiamo sulle soluzioni Ben collaudate Ben testate Senza deviare Dalle buone pratiche Siamo ragionevolmente Tranquilli Che tutto funzioni Ok? Va bene Quindi Nella pratica Dobbiamo venire Alla nostra applicazione Abbiamo fatto una lunga premessa Adesso Ci caliamo Nella nostra applicazione Quindi React Useremo L'applicazione React Usiamo un modulo Che si chiama Passport Che Ci consente Di implementare Tutto ciò Di cui abbiamo parlato No? Quindi Allora Prima di tutto Noi dobbiamo realizzare Un form Quindi Oggi creeremo Un form Quindi una nuova pagina Una nuova route Praticamente Tutti i vostri progetti D'esame Dovranno avere Una route Barra login Qualcosa di questo tipo Cioè Non è strettamente Dispensabile Usare le route Ma diciamo che È una comodità Così Forte Come avete visto In laboratorio Per cui Ecco L'esempio classico Di una route apposta È La login Perché Lì si fa un'operazione Ben chiara Ben definita Non c'è bisogno di avere Altro Contenuto Ok Quindi ci sarà Un identificativo Unico Dell'utente E una password Cosa può essere L'identificativo Unico Dell'utente Qualsiasi cosa Che sia unico Va molto di moda L'email Perché Perché l'email Si ritiene Sia unica Ma anche il numero Di telefono Cellulare Di solito Un altro di questi Identificativi Che si ritiene Siano unici E così via Qualcuno deve garantirle Un'unicità Ok Perché se no Non si va in grado Di distinguere Utenti diversi Ma questo È abbastanza scontato Ma non è indispensabile Che sia un'email È comodo È molto comodo Perché di solito L'email è unica Perché il personale E il server Un server di email Non dà la stessa email A due utenti differenti Però Non è assolutamente Dispensabile Per entrare Il conto in banca Di solito Non avete un'email Avete un numero Un numerino Qualche cosa Che magari avete Anche personalizzato Ma che è solo vostro E non è di un altro utente E poi ovviamente Una password Che è ciò che va Mantenuto segreto I dati sono validati Sul lato del server Quindi lato del server Il server verifica Che l'utente E la password Coincidano con quelli Impostati per quell'utente E se va tutto bene No scusate Qui eravamo ancora sul client Vabbè I dati sono validati Nel senso Se doveva inserire un'email Qualcuno va a vedere Che ci sia la chiocciolina Ma perché Perché se tanto non mando Un qualcosa Con la chiocciolina Il server non lo validerà mai Ma questa è una cortesia Cioè evito che il campo Passo sia vuoto Evito che il campo Username sia vuoto Se mi mando un form vuoto Che autenticazione Vuoi che succeda Ok Niente È inviato Con una post Mi raccomando Sempre solo post Ma qui non avete Niente da scegliere Prenderete il codice Che vedremo oggi Lo portate nella vostra applicazione Avete finito Ve lo guardate Guardate come funziona Però fondamentalmente Non c'è da toccare nulla Ok Punto 3 Che è quello che stavo Dicendo prima Il server riceve La richiesta E controlla Se l'utente è registrato E se la password È corretta Ok Per fare Quest'operazione Non immagazziniamo In chiaro La password Nel server Su questo ci torniamo Quindi nel database Se voi aprite il database Non ci troverete La password In chiaro Ok Sarà una colonna password Ma non ci mettiamo La password Ma ci mettiamo Un hash Della password Adesso vediamo Poi cos'è Questo hash Se le due cose Non fanno match Si manda indietro Una risposta Al client Che dice Use name Password errati Mi raccomando Questa è la buona pratica La cattiva pratica Su tutte le altre L'utente non esiste L'utente non esiste Non è una bella risposta Perché Poi Anche non conoscendo La password Riprovando Riprovando Quando mi dice L'utente Non mi dice più L'utente non esiste Ho indovinato Un nome utente E questo non è bene Ok E così via Oppure Password errata Implicando che L'utente sia giusto Ok Perché se sbaglio L'utente mi dice Username Password errata No L'unica risposta Corretta In questo caso È Utente Password errata Come vi dice La vostra banca Credenziali Non corrette Punto e basta Ok Generico Ovviamente Io l'atto server Lo so se l'utente Esiste o no Ma non devo dirlo Ok Anche se la password È sbagliata Ok Perché Perché fa parte Di queste buone Pratiche di sicurezza Allora Ipotizziamo che Andiamo avanti Quindi Username e password Sono corretti Fanno match Con quello che c'è Lato server Nel database E quindi L'utente È autenticato Allora Il server Genera Un id di sessione Come fa A generarlo Ci sono moltissimi metodi Lasciamo fare Al server Per noi È un identificativo Casuale Ok Un numero a caso Ovviamente Abbastanza grande Da non poter essere Indovinato Uno Due Tre Quattro Cinque E questo Identificativo Verrà memorizzato Dal server Associato A La sessione Che ha Autenticato L'utente Con quel username Ok Così che Quando ricevo Quell'identificativo Di sessione Questo session id Sono in grado Lato server Di sapere Che corrisponde A quell'utente E ho L'id dell'utente O comunque Un'informazione Unica Di quell'utente Che posso usare Per andare A ritrovare Le sue Informazioni Nel database Facendo le query Where Utente Uguale L'id Che ho Nella session Ok Non la session id Ma l'id Dell'utente Associata A quel session id Ok Quindi In qualche maniera Viene creato Questo session id Poi possiamo Sempre entrare In più dettagli Però In questo momento Inutile Cioè Il server Tramite il framework Che usiamo Magicamente Crea Un identificatore Di sessione Unico Associato Casuale Associato Al nostro Utente Autenticato Il server Dà una risposta Alla richiesta Post HTTP Fatta Col form Di login E manda Un cookie Con scritto Un nome Non so Sarà session id Non so Adesso Cosa scrive Passport Ha il suo nome Uguale Il valore Quello che ha generato Ok Con gli attributi HTTP only True Quindi Solo HTTP Inaccessibile Al codice JavaScript E secure True Se lo voglio Su HTTPS Cosa che noi Come detto Non faremo Ma in generale Bene fare E poi Un'eventuale Scadenza Se ritenete Di metterla Noi non la mettiamo Perché abbiamo Questi cookie Temporani Quando chiudiamo Il browser Vanno via Ok Ma Sempre nell'ottica Di semplificare Perché abbiamo Un corso A 6 credit E non da 12 Il browser Riceve la risposta Col cookie Il cookie Dov'è? Il cookie Negli header Di risposta Del protocollo HTTP Lo vediamo dopo E questo cookie Viene gestito Interamente dal browser Noi non dobbiamo Scrivere una riga Di codice Il browser Legge gli header Di risposta HTTP Vede scritto Set cookie Prende il valore E lo mette Nella sua memoria Dei cookie Tutte le volte Che facciamo accesso Allo stesso sito Quindi nel nostro caso Localos 3001 Che è il server Della API Invierà il cookie Nella richiesta Come cookie Due punti Negli header HTTP Di richiesta Che sia Get Post Put Delit E così via Fino a quando Fino a quando Non viene eliminato Dal server Quindi ci manda Un header Che dice Cancella il cookie Oppure scade Ok E poi La risposta Quindi una post Può avere una risposta Può avere un body Di risposta HTTP E questo si gestisce Come abbiamo fatto Finora Nelle applicazioni web Prendiamo il body Di risposta Lo usiamo Ne facciamo Quello che riteniamo Opportuno Può esserci Per esempio Le informazioni Dell'utente Posso mandare indietro Oltre che Lo username Il nome Il cognome Eccetera Benvenuto Enrico Ma la mia E-mail Era Pippo Test Test Punto Com Però il server Sa che a quella Corrisponde il nome Enrico In questa risposta Può esserci il nome Dell'utente E il nome Dell'utente Verrà usato In un'applicazione E fa Benvenuto Enrico Benvenuto Chi siete L'ultima volta Che sei entrato E Non lo so Qualsiasi cosa Vi salti Di mandare indietro Una risposta Del login Che potete Che ritenete Essere utile Per la vostra applicazione E chiaramente Questo dipende Della vostra applicazione Potete anche solo dire Benvenuto E basta Però E' più carina L'applicazione Se mettete il nome E così via Se ha senso Se volete farlo Se è richiesto Ok Quindi Form di login E un form React Abbiamo già visto Il form React Tanto tempo fa Da un po' di settimane fa Un login form Due stati Usen Password Set Usen Set Password Un form Di tipo Controlled Quindi ci sarà Qui non c'è Però ci sarà Poi un return Form Poi input Type Uguale Text Type Uguale Password Ricordatevi di metterci Il type Uguale Password Che lì quando scrivete Vengono fuori palline Non vengono fuori caratteri Della password In chiaro Se no usate un controllo Già fatto In React Bootstrap Ci sarà pieno Di questi componenti Che fanno Questa operazione Per la password On change Aggiorniamo lo stato Come in tutti i form Controlled E poi On submit Quindi quando si preme Il bottone submit Si va A fare L'operazione Prevent default Come sempre Perché se no Ci si ricarica L'applicazione E abbiamo finito Tutto Quindi Si distrugge L'applicazione Non vogliamo Questa cosa Nelle single page Application Quindi dopo Prevent default Faccio un po' Di controlli Di validazione Che ritengo Sul client Tipo che non ci siano I campi vuoti Cosa mando Una username vuota Una password vuota No, non serve a nulla Dopo che ho fatto Le mie validazioni Ragionevoli Sul client E quindi eventualmente Dato un messaggio Di errore Sul client Non lasciatemi All'esame Che io metto Usain and password Premo E non va E non si capisce Cosa c'è che non va No? Una volta testavamo Gli esami Prima Dell'orale E diventavamo Difficile Perché se uno rimane Bloccato lì Tipicamente Due terzi D'applicazione Sono di più Non si possono testare Ok? Adesso ci siete anche voi In qualche maniera Si può gestire meglio Però Bisogna dare un feedback All'utente C'è qualcosa che non va Ricontrolla Il campo user Ricontrolla Il campo password Almeno Ok? Poi User login Callback Va bene Qui ci sarà Qualcuno Che poi va a fare Una fetch Col metodo Post Dell'url Non so API session Noi lo facciamo Ma login Diciamo in generale Sul server A fare tutte le operazioni Che dicevamo prima Inviando nel body Usain and password Infatti Li passo come parametri Ok? Altrimenti Vabbè Mostro qualcosa All'utente Ma non vi invio Neanche la richiesta Inutile inviare Una richiesta Con username e password Vuoti Per esempio Ok? Quindi questo è il lato Semplice Il client È un form Avete già fatto il form Ne facciamo uno in più Abbiamo risolto il problema Tra l'altro È sempre uguale Quindi fondamentalmente Si tratta di copiarlo E basta Vediamo il lato server Che invece È ovviamente Più impegnativo Noi ci avvaliamo Di un framework Quindi di una libreria Questo passport Che devo dirvi Va bene Nel senso che Supporta tantissimi Metodi di autenticazione Il giorno che siete curiosi E volete sperimentare Con sistemi diversi Per i fatti vostri Volete fare l'autenticazione Due fattori Con google Con facebook Con quello che vi pare Probabilmente Lo supporta In qualche maniera E Non abbiamo trovato Di meglio In questo senso Purtroppo La documentazione È un po' scadente Bisogna un po' Cercare su internet Quando andate Al di fuori Di quello che vi facciamo Vedere noi Oggi Ok Ma noi oggi Vi facciamo vedere Tutto quello che serve Per realizzare Il meccanismo di base L'autenticazione Con username e password Il controllo sul db Ok Usa già delle best practice Come è sperabile Tutti i framework Dovrebbero usare Delle best practice Le best practice Per esempio Ci imposta automaticamente I cookie In modalità HTTP only Ok Che è quello che dicevamo Vorremmo fare Ma molto spesso Tutti questi framework Hanno delle opzioni Per cui potete personalizzare Questi comportamenti Ok Allora Come facciamo a usare Passport Qui stiamo parlando Del server No Allora Prima di tutto Passport ci richiede Di dire Quale strategie Di autenticazione Vogliamo adottare Perché ce ne ha 500 Dobbiamo dirgli Quale vogliamo E noi vogliamo Quella base Username e password Eventualmente Installiamo Del middleware addizionale Adesso vedremo Cos'è E poi Decidiamo Che informazione Il server Deve tenere L'atto server Associato All'identificativo Di sessione Perché questo Sta a noi Che sviluppiamo Il server Ci sarà Un'informazione Minima Cioè senza L'identificativo Dell'utente La sessione Non ci serve A nulla Però Altra informazione Che può essere Tenuta Sul lato server Associato All'identificativo Di sessione Sta a noi Nome Cognome Dato ultimo Accesso Non lo so Quello che volete Sta a noi Decidere Dove Se metterla Oppure no Ok Quindi queste cose Le dobbiamo decidere Noi Che scriviamo Il lato server Dell'applicazione Autenticazione Allora Punto numero uno Noi usiamo Quella che viene chiamata Local strategy Si deve installare È un modulino Adiezionale Sempre di password Quindi prima Installiamo password Poi installiamo Passport local Che sostanzialmente È quella che implementa L'autenticazione Con username e password Non quella che serve a noi Dobbiamo Dire A password Di usare La local strategy Passando una callback Che Dentro Farà l'operazione Di andare a verificare Se lo username e password Ricevuti Sono validi Oppure no Perché sta a noi Fare questa operazione Siamo noi Che abbiamo pensato Come fare il db Come si chiamano Le colonne del db Come immagazzinare La password E così via Come In tutto il codice javascript Che abbiamo visto Dall'inizio di questo corso Quando c'è Da delegare Un'operazione Del codice A qualcun altro Le funzioni Prendono una callback E la callback La dobbiamo creare noi Quindi noi Dobbiamo scrivere Questa funzione Verify Che prende Tre parametri Username e password E la callback La callback E ciò Da chiamare Quando abbiamo finito Di fare le nostre operazioni Quindi Allora Username e password Devono essere usati Per andare a fare la verifica Su database Noi li useremo Ci implementeremo Nel DAO Una qualche funzione Che sostanzialmente Va a fare la query Aspetta il risultato Della query E il risultato Della query Ci dirà Se va tutto bene Oppure no Se va tutto bene Magari ci tira fuori Anche le informazioni Dell'utente Che ci interessano Come vi dicevo prima Non solo lo user id Ma il nome Il cognome Quello che volete E-mail Piuttosto che Non so Altre informazioni Che ci possono essere utili Quindi Se l'abbiamo implementato Come promise Come vedremo E' sempre bene fare Perché sono tutte operazioni Asincrone Andare a chiedere al db Un'operazione asincrone L'abbiamo sempre implementato così Anche questa Un'operazione asincrone Ritorno a una promise Quindi punto den Oppure faremo await Se vi piacciono le await User Se l'utente Non è impostato Vuol dire che Non abbiamo effettuato Correttamente L'autenticazione Quindi All user Non la pass Non andavano bene Ma a noi non interessa Cosa non andava bene Tanto dobbiamo solo dire Non va bene Chiamiamo la callback Callback con null Che noi manteniamo Che noi manteniamo nella sessione Quindi tipicamente Un oggetto Che contiene L'informazione Dell'utente Un oggetto Di cui decidiamo Noi Qual è il contenuto User E ci metteremo Non so Id Uguale qualcosa Due punti Due punti qualcosa Nome Due punti Enrico Cognome Due punti Masala Indirizzo Quello che volete Ok Quindi questi sono i vari casi Con i quali possiamo usare la callback Ma diciamo che noi scrivendo in questo codice Abbiamo coperto sostanzialmente Tutti i casi Che ci interessano Ok Ah ecco Il primo parametro serve per eventualmente Errori di livello applicativo Non riesco a parlare con il DB Non è che il tuo utente è errato Non lo so Perché non sono riuscito a parlare con il DB Invece se metto null E metto false Ci sarà un problema di mancata autenticazione Per qualche motivo Ok User Lo decido io Un qualsiasi oggetto Che contiene le informazioni dell'utente No Se sono andato a fare la query sul DB Dal DB posso tirar fuori tutto quello che voglio Dal minimo Che l'identificativo dell'utente A tutte le informazioni collegate a quell'utente Ok Come immagazzinare le password Mai 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 Immagazzinare le password In Testo In chiaro Plane Sta per in chiaro Sul server Cioè nel database Non è che le mettiamo nel server Le mettiamo nel database Perché Perché In tanti possono avere accesso al database No A parte l'amministratore del sistema Che ovviamente è colui o colei Che ha sempre accesso al sistema E quindi ai dati del database Ma se poi Vi hackerano il sito Entrano sul server C'è qualcuno che copia i dati Eccetera Diffondono questi database In giro per la rete No E se la password è in chiaro È lì pronta per essere utilizzata Per entrare nella vostra email Nel vostro conto in banca In tutto quello che Non volete che sia Acceduto Senza vostro permesso Se invece Non c'è la password in chiaro Ma c'è Il risultato di un'operazione Non invertibile Che si chiama hash Che però siete in grado Di verificare Perché se no Non vi serve a nulla Diciamo Non è che potete stare Tanto più tranquilli Però state almeno Un po' più tranquilli Non è immediatamente disponibile Bisogna provare a vedere Se quell'ash Corrisponde a qualche password Diciamo Che noi possiamo Provare a indovinare Ok Quindi è già Una difficoltà Decisamente superiore Ok Quindi Come funziona l'ash Noi prendiamo la password E creiamo un hash Un hash cos'è? Una trasformazione Univoca Da un valore Che è la nostra password A un altro valore Che non è invertibile Cioè io ho dato il secondo valore Il risultato dell'ash Non so Ricostruire il primo valore Ok Non c'è un algoritmo Per ricostruire il primo valore L'unica cosa che posso fare È procedere per i tentativi Tirare e indovinare Se Provo Che so La password 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faccio l'ash L'ash uguale Ok La password era quella Però se non indovino La password Quindi se la password Non è proprio banale Devo provare a indovinare Se non la indovino Non so che cosa Corrisponde a quell'ash Però Chi conosce la password Quindi l'utente originale Quando fornisce la password Io ne faccio l'ash Vedo che quell'ash Coincide con l'ash Che ho nel database Quindi l'utente originale È in grado Di produrre quell'ash Perché conosce La password originale Ok Ma chi legge il database E quindi legge gli hash Non è in grado Di conoscere Qual è la password originale L'unica cosa L'unica cosa che può fare Se viene a conoscenza Dell'ash È procedere Per tentativi Ok Quindi Ok Se avete usato Le classiche Password stupide Password 1,2,3,4,5,6 Querti E così via Ok E quelle provano Fanno l'ash E se corrisponde È un po' colpa vostra No Un po' colpa dell'utente Per quello che chiedono sempre Quando voi mettete Una nuova password Metti i numeri Metti le lettere Non mettere i numeri consecutivi Metti la maiuscola Metti il punto Un carattere speciale E così via No Per evitare che uno metta Password 1,2,3,4,5,6 E così via Ok Quindi Mi raccomando Noi All'esame Pretendiamo Che sia fatto Tutto in questa maniera Ok Ma non c'è niente Da inventare Vi diamo il codice Che già risolve il problema Io qui vorrei Porvi il problema Porvi il problema E farvi riflettere Su questi problemi Ok Quindi noi abbiamo Una funzione Non ci mettiamo A implementare un hash Non esiste Guai a implementare Funzioni criptografiche Si sbaglia Il 99,9% Delle volte Si sbagliano anche Gli esperti Quindi figurarsi Chi non è esperto Usiamo una libreria Di cui ci fidiamo Noi useremo Questa S-crypt Che è un meccanismo Sicuro Per fare Ashing Ok Se cliccate sopra Perché poi dovete Scrivere questo hash Nel db Perché o fate Da codice La creazione Utente password Che non vogliamo fare Almeno all'inizio Se non è richiesto Nel nostro Tema d'esame Quasi mai è richiesto E allora come facciamo E allora come facciamo ad avere Questo hash E se io voglio E se io voglio hash Devo farlo calcolare La password Ok E questo è anche il motivo Per cui nel ritmo Che consegnerete All'esame Nelle istituzioni Del progetto Dovrà esserci scritto Quale è l'utente E quella è la password O gli utenti E le password Perché se ce n'è più di uno Gli utenti E le password Perché noi Non è che possiamo Sognarci le password Dovete dircele Ok Va bene E non possiamo Neanche andarla a vederla In database Perché se avete fatto Le cose bene Le avete fatte così E non sono visibili Ok Vediamo solo Se c'è la questione Il sale Sì Ok Quindi S-crypto Non è da installare Come modulo C'è il modulo Crypto Che dovrebbe essere Già installato Tra l'altro in node Quindi Facile da usare Non c'è nulla Da installare In sostanza Come funziona Allora abbiamo Una funzione Per creare L'hash Che però Noi non usiamo Direttamente Ok Lo faremo Nel momento Del login Quando ci arriva La password In chiaro Dall'utente Dal form Ci arriva La password In chiaro Noi ne facciamo L'hash Per verificare Se è uguale L'hash Di quella del db E poi C'è una Funzione Per verificare Se gli hash Corrispondono In realtà Basterebbe Il triple uguale Però Per una questione Di sicurezza Si usa Una funzione Apposta Che Diciamo Così Che ci mette Un tempo Casuale A verificare Se Le due Passo Coincidono O no Perché ci sono Attacchi Anche che si basano Sul tempo Nell'ambito Della 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 sicurezza Per cui Noi usiamo Semplicemente Le funzioni Che ci vengono Date Punto Basta Ok Cos'è il sale Allora Il sale Pur non essendo Strettamente Indispensabile Per far funzionare Il meccanismo Dell'hash È un qualcosa Di utile Nel momento In cui Voi avete Tanti utenti Perché Perché se voi Avete tanti utenti Nel vostro sito Quindi ci disconsiamo Un attimo Dal nostro progetto D'esame Avete tanti utenti E ci sono due utenti Che hanno messo La stessa password Qual è il risultato E se non avete Nessun meccanismo Addizionale Questi utenti Hanno lo stesso hash No Pensiamo pure Una password Non stupida AW1 Applicazione web 1 2023 Trattino Non lo so Bell'esame Quello che volete Ok In due Mettete la stessa password E nel tb Si vedono Due hash Uguali Ok Ovviamente Se sono quattro utenti In tutto Non cambia nulla Ma se avete Voi come google Come facebook Come questi siti Grandi Ma anche non grandissimi Un milione di utenti Se il vostro database Per qualche motivo Va in giro Quindi qualcuno Ruba il database E' vero che ci sono Le password Con gli hash Ma se gli hash Sono uguali Mi concentro Sul Cercare di Indovinare Le password Che corrispondono Agli hash Uguali Perché Indovinato una Indovinato Quella di n utenti Giusto E questo Lo vedo Perché gli hash Sono uguali E in più Se sono uguali Probabilmente Sono anche Le password Più semplici Perché Se ci metto Un po' Di fantasia È difficile Che in due Abbiamo la stessa Fantasia Allora Per evitare Di Incorrere In questo problema Soprattutto Quando ci sono Tanti utenti Alla password Si aggiunge Un pezzetto Addizionale Di password Che è creato Dal server Immagazzinato Sul server In chiaro Che si chiama Sale Proprio Traduzione italiana Sale Che Messo insieme Alla password Anche uguale Produce un hash Diverso Così Non so più Quali sono Le Gli hash Che corrispondono Alla stessa password Anche se le password Sono le stesse Ok Ovviamente Gli hash Devono essere Tutti diversi No scusate Gli hash Gli sali Devono essere Tutti diversi Ma i sali Li creo io E li tengo in chiaro Nel database E non è un problema Tenere il sale In chiaro Perché C'è ancora Il resto Della password Che è segreta Anzi Mi aiuta Perché così Le hash Delle stesse password Produrrà un risultato Differente Perché le hash Della password Più il sale Più Cioè concatenato Col sale Ok Quindi noi Nel db Ma ve lo daremo Già fatto Avremo Utente Quindi l'identificativo Dell'utente Poi avremo Il sale E la password Il sale Sarà una stringa Qualsiasi A caso In chiaro Possibilmente Non di un carattere Se no torniamo Al problema di prima Poi si Sono uguali Quindi un po' lunga Qui diciamo 16 byte Va bene E poi L'ash Nella colonna Password L'ash Della password Ok Tutte queste funzioni S-crypt Ma anche le altre Che ci sono in giro Sono già predisposte Tutte per usare Il sale Quindi noi dobbiamo Per fare la verifica Leggere il sale Dal db Fare l'ash E confrontarlo Con la lettura Dell'ash Dal db Se coincidono Abbiamo risolto Il nostro problema Cioè L'utente È autenticato E questo è il motivo Per cui ci trovate Questo secondo campo Sale Ok Questo lo dovete Immagazzinare In chiaro Nel db Ok Io adesso ho messo Uno o due Potete scriverci Quello che volete Quindi L'importante è che ogni sale Sia diverso Possibilmente Per ogni utente Perché Se è uguale Ricadiamo nel caso di prima Se tutti hanno la stessa password Password più sale uguale Il risultato esce uguale Ok Va bene Quindi Questo è il codice Per fare il check Della password Quindi Get user È quello di prima Get user Era quello che chiamiamo qui Get user Quindi vediamo anche la get user La guardiamo solo Passiamo Un identificativo dell'utente Diciamo l'email Per semplificare Ma può essere un ID qualsiasi Quello che ci arriva dal form E la password La password qui ci deve arrivare in chiaro Non c'è soluzione Questo è il motivo per cui L'applicazione Anche deve funzionare Su HTTPS Perché poi quando fate La richiesta post Con username e password Non volete che la password Sia intercettabile sul canale Però di nuovo Noi non lo facciamo Per nostra semplicità Perché crea più pasticce Di quello che risolve Quindi email password Promise Andiamo sul db Select asterisco From user Where email Uguale punto interrogativo Allora Se l'utente esiste Questa Select Ritorna una riga Perché Lo user È unico Ok Quindi facciamo Db get Potevamo fare Db run E prendere la prima Però facciamo pure Db get Quindi prendiamo una sola Se la riga C'è Quindi arriviamo all'else Quindi non c'è Tutti gli errori E compagnia User id Row id Username Row email Ok Sale Row sale Row salt No Quindi abbiamo estratto Dal db Tre colonne Id Username Che è l'email Ok Che quindi deve coincidere Con quella che abbiamo chiesto Ovviamente Se c'è Quindi se row è undefined Vuol dire che la riga Non c'era Ho finito Sale E poi faccio Prendo la password Col sale Che ho estratto Dal db Gli dico che Io avevo le password A 32 byte Va bene E mi faccio Ritornare la password Hashed password Tutte queste funzioni Sono asincrone Per cui devo passare Una callback Che mi verrà richiamata Quando hanno finito Quando questa S-crypt ha finito Di fare il calcolo E mi darà La hashed password Come parametro Io la hashed password La confronto Con row password Trasformata in ex Perché così vuole La libreria Con quel timing Safe equal Se tutto va bene Faccio Resolve user User Che è l'oggetto Che contiene Tutto ciò Che interessa a me Dell'utente Quindi il minimo L'id Se però voglio Anche l'email Se voglio il nome Potevo avere Row name Row surname Row Tutto quello Che volete Ok Tutto ciò Che voi avete messo Nella tabella User Che ritenete Sia utile Alla vostra applicazione Lato server E poi ricordatevi Che c'è ancora Il body Da mandare indietro All'applicazione client Quindi In questo momento Potete tirar fuori Entrambe le cose Ciò che sarà Servirà sul server E ciò che servirà Anche sul client Perché poi dobbiamo Una volta che abbiamo risolto La promise Con resolve User Questo user Lo prendiamo Lo facciamo diventare Un json Lo mandiamo Al client Perché così Se vuoi scrivermi Benvenuto Enrico Questo Enrico È venuto fuori Da qualche parte Dalla risposta Della post Di autenticazione Ok Middleware Allora Ci servono le sessioni Ci siamo scordati Delle sessioni Abbiamo fatto la prima parte Sessioni Chi mi genera La sessione Beh Lo faccio fare Ovviamente A password C'è un modulo Apposta Express session Di default Mi magazzina Le sessioni In memoria A noi va bene così Però ricordatevi Che anche qui Se voi dovete Riavviare il server Vuol dire che perdete Tutte le sessioni Quindi tutti gli utenti Autenticati Devono immediatamente Riautenticarsi Quindi di solito In un'applicazione reale Le sessioni Sono scritte sul disco Perché se per qualche motivo Il server deve ripartire Se è piantato Non perdo tutti gli utenti Autenticati Noi Il nostro progetto È di esempio Però se avete Un milione di utenti Createte un disservizio grosso E poi tutti si riloggano Nello stesso momento Per cui caricano Immediatamente L'applicazione E così via Ok Quindi Comunque Per noi va bene La sessione Si usa in questa maniera Punto e basta App use session Dobbiamo dare Una Un segreto Quindi una frase segreta Un qualcosa di segreto Una stringa segreta Ad uso interno Della sessione E Passport ci farà Lavori suoi Diciamo che ci cifra Della roba Nel cookie Ma Non ci interessa Gli altri parametri Vanno bene Questi Di default E noi poi Semplicemente Diciamo Ad app App vi ricordo È il server express Come facevamo Use course Use morgan Per fare il logging Eccetera Facciamo Use passport Authenticate session E gli diciamo Di usare Questo meccanismo Delle sessioni Quando è richiesto Cioè fondamentalmente Di mettere Il set cookie Di ricevere il cookie Di vedere se c'è il cookie E così via Quando è necessario E fa tutto da solo Ok Mi raccomando Secret è richiesto Ok Per l'esame Ovviamente Lo consegnerete Insieme al vostro progetto Se no Non funziona nulla In generale Questo genere di cose Non vanno messe Col commit Sul sistema di versioning Ok Quindi quando siete A lavorare veramente In un'azienda Da qualche parte Ovviamente Non è che Le stringhe segrete Ne fate il commit A qualche parte Infatti Nelle aziende Che lavorano per bene Queste cose Vengono tenute Da parte Da un'altra parte Separate dal sistema Di versioning Quindi dal git E così via E vengono aggiunte Quando si crea L'applicazione Per metterla in produzione In maniera che Non è che Chiunque va a farsi Un giro sul git Per vedere come funziona Il codice Si legge il segreto Che viene usato Effettivamente In produzione Nell'applicazione Perché poi può andare A decifrare Delle cose Che non abbiamo piacere Che vengano decifrate Comunque Per il progetto Questa cosa Non fa niente La mettiamo ovviamente Sul git Col meccanismo Che servirà Per consegnare il progetto Perché se no Non funziona nulla Ok Basta saperlo Ok Usiamo questi parametri E E E Con l'esempio di prima Non c'è niente da pensare Di particolare Ecco Terzo Dobbiamo decidere Cosa far stare Nella sessione Lato server Nella sessione Lato server Per decidere Cosa far stare Dobbiamo scrivere Due funzioni Che sono Le callback Che passiamo A serialize user E deserialize user Quando Usiamo passport Ok Serialize user Cosa fa Prende L'utente Che è stato autenticato E me lo trasforma In un qualcosa Che verrà messo In una forma O nell'altra Associato meglio Diciamo così Associato All'identificativo Di sessione Ok Però questo è un dettaglio Interno Di passport Passport session Anzi Era express session Scusa Express session Il deserialize Prenderà L'identificativo Di sessione Tramite la nostra Callback Dovrà essere in grado Di tirar fuori L'utente Ok Noi vediamo Queste funzioni Già fatte Avete solo Da usarle O da personalizzarle Se volete aggiungere Altre informazioni Oltre l'id Dell'utente Ok Quindi Nella serialize user Noi prendiamo Noi prendiamo Le informazioni Dell'utente Anche solo Un sotto insieme E decidiamo Che quelle Verranno In qualche maniera Inserite Nell'identificativo Di sessione Non in chiaro Ma cifrate In maniera che non siano Interpretabili Da chi vede L'identificativo Di sessione Ehm Boh Cosa ne fa Passport Lasciamo pure stare C'è un meccanismo Per fare l'inverso C'è quando arriva L'identificativo Di sessione Devo essere in grado Di tirar fuori L'id Dell'utente Che corrisponde A quell'identificativo Di sessione E poi Prendelo Andare su database A Ricavare Le informazioni Associate a quell'utente Ok Ecco Questa è la cosa importante Quelle informazioni Mi verranno messe a disposizione In rec.user Rec E la richiesta Ricordate per le root Abbiamo rec Res Res La risposta Rec La richiesta Avevamo Rec Body Per il body Rec Query Per le query Rec Params Per i parametri Una volta che abbiamo le sessioni Abbiamo rec.user L'hanno chiamato user Perché di solito Lo user È il nome di default Che è stato messo Diciamo da quelli che Implementano Hanno implementato Le sessioni Ok Quindi Se voi dovete conoscere Quali sono le informazioni Dell'utente Associato a quella sessione Dovete andare a cercare Rec.user Se la richiesta Avviene con un cookie Perché se la richiesta Avviene senza cookie Ovviamente Questa Informazione non c'è Perché la richiesta Non è autenticata Ok Dunque Vediamo un po' Allora Vediamo solo di concludere Il discorso Fino Ecco qui Allora Dopo che abbiamo messo a posto Tutto ciò Ma c'è già il codice Sul github Questa mattina Io questo l'ho già messo Perché è un po' macchinoso E poi soprattutto Rimane uguale Quindi è inutile Che stiamo lì A scrivere il codice Che poi rimane uguale Identico A quello che userete Anche nel vostro progetto Una volta che abbiamo messo Su tutto Possiamo fare L'operazione L'operazione Di Autenticazione Come funziona Funziona Che nella route Post Del login O session Come faremo noi Dobbiamo chiamare Passport E dire di fare Quest'operazione Di autenticazione Come si fa Queste route Hanno la possibilità Di inserire Parametri aggiuntivi Questa express Ci consente Di inserire Parametri aggiuntivi Quelli che abbiamo chiamato Middleware Quando abbiamo parlato Di express E uno di questi parametri È chiamare Passport Per verificare Se la richiesta È autenticato In questo caso Per autenticare La richiesta E creare la sessione Perché qui siamo Nella login Ok Quindi in realtà La faccenda è semplice Passport Authenticate local E qui abbiamo risolto Il nostro problema E cercherà Questa richiesta In rec body Un campo Username Un campo Passport Quindi dobbiamo solo Avere l'accortezza Lato client Di mandare Un json Con un campo Che si chiama Username Un campo Passport E non un campo A caso User Pass O quello che ci sogniamo Perché questa Va poi a cercare Quei due nomi Ok Con la risposta Al login Se tutto va bene Ci sarà dell'informazione Poi va bene Disponibile nel browser Perché noi abbiamo fatto Res json Rec user E possiamo decidere Cosa mandare indietro Lo username Tutto l'oggetto user User id User Quello che volete Quello che ritenete Se utile All'applicazione Nome Cognome Eccetera Ok Questo lo decidete voi No Questa vostra scelta Chiaramente Questa risposta Probabilmente Lato applicazione La vorremmo Immagazzinare Come immagazzinare Le risposte Delle API Sono dati Di solito Li mettiamo In uno stato Quindi avremo Probabilmente Ma come faremo Noi stamattina Uno stato Che si chiama User In cui Immagazziniamo Con un asset user La risposta Della login Se tutto è andato Buon fine ovviamente E poi potete Distribuirla Nella vostra applicazione Come meglio vi pare Passandole come props Col context Come volete Ok Non Non importa E questo Diventa Una informazione Come le altre Nella vostra applicazione Come la lista Dei film La lista Delle risposte E così via Ok Ecco Ecco Vi dico solo Che per finire Dobbiamo Dobbiamo Ancora fare Un'operazione Importante Ma la riprendiamo Dopo l'intervallo A mente un po' Più fresca Le API Che vanno Usate solo Se c'è L'autenticazione Vanno protette Quindi se noi Che so Abbiamo la get Della lista Dei film E voi potete Vedere solo La lista Dei film Se siete autenticati Quindi vedete Sempre solo La lista Dei vostri film Quella get Non potrà rispondere A chiunque Ci faccia Una richiesta Get Ma dovrà Verificare Se c'è stata Autenticazione Oppure no Come si fa? Bene In ogni Ve lo anticipo Ma Ecco In ogni API Da proteggere Dovremmo Inserire Un middleware Apposta E ricordarci Soprattutto Di farlo E queste Sono tutte cose Che all'esame Verificheremo Un'occhiata Al server La diamo All'esame Verificheremo Che la richiesta Avvenga Con un utente Autenticato Ok Come Con una funzione Che creeremo Apposta Allo scopo Che andrà A chiamare Cioè Verificare Se la richiesta Autenticata Ma se c'è Già Usato Passport Eccetera Surreco Un metodo Apposta Per fare Questa verifica E se la verifica Non ha successo Darò Automaticamente La risposta Richiesta Non autenticata E tutto il resto Del codice Non verrà più Eseguito Quindi non andrò A fare la richiesta Sul db A tirar fuori I dati E così via Quindi la richiesta All'api Si ferma prima Ok Bene Allora Io direi Se avete dei dubbi Vi rispondo Se no Facciamo un po' di pausa Cerchiamo di non perdere Troppo tempo Per Come dire I dubbi Che potreste avere Anche se qualcosa Volentieri Vi rispondo E tra dieci minuti Riprendiamo Concludiamo il discorso Lo applichiamo Nel codice Ok Va bene Grazie Non vedo domande Grazie a tutti